Dopo la mozione di indirizzo di recente approvata dal Parlamento, nel dibattito pubblico si ritorna pericolosamente a parlare di minibot. In verità, non esiste una proposta articolata, ma nella sostanza dovrebbero essere passività dello stato di piccolo o piccolissimo taglio emesse senza tasso di interesse e senza scadenza. In una prima ipotesi è che i minibot siano emessi con la possibilità per imprese e famiglie di utilizzarli per pagare le tasse. È ovvio che in tal caso sarebbero del tutto identici ad un taglio delle imposte o in modo equivalente ad un incremento di debito pubblico. Per capirci, facciamo un piccolo esempio. Se alla fine dell'anno un certo signor Rossini deve 100 euro al fisco, ma lo Stato gli dice che può usare 100 minibot per pagarle, il signor Rossini risparmia 100 euro da spendere come vuole al ristorante, mentre lo Stato non incassa quei 100 euro dovuti di tasse e deve quindi finanziare il deficit di entrate in qualche altro modo, o riducendo la spesa pubblica oppure con un maggior debito. Una seconda ipotesi è che i minibot possano essere utilizzati dalle imprese per riscuotere i crediti che devono avere con la pubblica amministrazione. In questo caso sarebbero del tutto inutili. Se lo Stato deve 100 euro di pagamenti all'impresa del signor Rossini potrebbe finanziarsi sul mercato emettendo buoni del tesoro per 100 euro e girare poi quei 100 euro al signor Rossini per estinguere il proprio debito. Di fatto lo Stato starebbe scambiando una passività, cioè i pagamenti dovuti all'impresa, con un'altra passibilità, i buoni del tesoro emessi per finanziarsi. Perché allora usare i minibot? L'unica ragione per farlo sarebbe quella di tassare implicitamente le povere imprese creditrici. Se un'impresa fornitrice della pubblica amministrazione venisse pagata in minibot oggi, potrebbe scontare il proprio credito solo più tardi al momento di pagare le tasse dovute. In ragione di questo lasso temporale più o meno lungo, di fatto è come se l'impresa sostenesse un costo implicito in misura pari ai mancati interessi. In altro modo, perché non ridurre le tasse alle imprese dello stesso ammontare dei crediti esistenti, senza alchimie cartacee? Un guadagno per lo Stato, una tassa implicita per l'impresa. E' un ulteriore motivo per guardare minibot con sospetto. Quello dei debiti in evasi della pubblica amministrazione è un problema reale che va certamente affrontato, ma deriva da inefficienze strutturali del nostro sistema amministrativo e non può essere risolto con trucchi monetari. Ora, molti si chiedono anche se i minibot equivalrebbero all'emissione di una nuova moneta. La risposta è che potrebbero. Potrebbero diventare moneta vera e propria. Di fatto, soddisfano una condizione necessaria, ma non sufficiente, per essere moneta. Sono passività dello Stato, senza scadenza e senza tasso di interesse. Ma non è detto soddisfino la condizione sufficiente, cioè la fiducia. Per essere moneta, i minibot devono essere accettati nelle transazioni. Se il signor Rossini riceve 100 minibot dallo Stato e vuole utilizzarli per fare la spesa, ad esempio, dal signor Bianchini, il signor Bianchini le accetterà solo se di fatto potrà utilizzarle per pagare qualcun altro, e così via. Niente garantisce che questo collante di fiducia si verrebbe a realizzare. Anzi, ce n'è da dubitare. E se lo Stato dovesse però imporre per legge che i minibot debbano essere obbligatoriamente accettati nelle transazioni, cosa succede? Beh, in tal caso, il signor Bianchini non potrebbe rifiutarsi di accettarli come pagamento. Ma ciò equivarrebbe di diritto e di fatto, all'uscita dell'Italia dall'Euro. Perché lo Stato italiano starebbe stampando moneta con corso legale. I minibot verrebbero probabilmente scambiati a grande velocità. Le persone vorrebbero liberarsene come una patata bollente e diventerebbero moneta parallela fortemente svalutata e di fatto carta straccia rispetto all'Euro. In conclusione, è evidente che i minibot sono un espediente inutile e verosimilmente dannoso che nasconde probabilmente possibili scenari di realizzazione pratica dall'uscita dell'Italia dall'Euro. Giovanni Tria si è accordato a Mario Draghi e ha bocciato senza appello i minibot. Dice che starebbe illegale o inutile che l'Italia mettesse obbligazioni per pagare i suoi fornitori, perché queste banconote violerebbero le regole della moneta europea o si aggiungerebbero al massiccio debito pubblico del Paese. L'uscita di Tria è stata commentata dai due vicepremier. Per primo è intervenuto il pentastellato Luigi Di Maio, dicendo che se lo strumento per pagare le imprese non è il minibot, ha scritto in un post su Facebook, il MEF ne trovi un altro. Ma lo trovi, perché il punto sono le soluzioni e non le polemiche. A stretto giro arrivano le parole di Matteo Salvini. Sullo strumento dei minibot si può discutere, ha detto, ma il fatto che sia urgente pagare le decine di miliardi di euro di arretrati e di debiti che la pubblica amministrazione ha nei confronti di imprese e famiglie deve essere chiaro a tutti, in primis al Ministro dell'Economia. È una questione di giustizia. E allora ci chiediamo ma cosa c'è di giusto nel voler pagare i creditori dello Stato con carta straccia. Grazie a tutti e alla prossima. Ciao!